Vedevo che scuotevi la testa, Andrea. Se siamo ridotti a fare un'analisi di questo tipo, per quanto dotta siamo messi un po' male. Cioè, dichiararsi antifascista è una precondizione per parlare di politico, per fare politica, secondo me. Questa, francamente, è una posizione puramente... Abbiamo pazienza. ...per partire le bourgeois, per fare un po' di spettacolo. Abbiamo pazienza. Se vogliamo discutere in termini scientifici c'è un altro discorso. Tarchi, diciamo... Pensiamo a Emilio Gentile, che giustamente cardinica... Abbiamo pazienza, Tarchi. Tarchi, abbia pazienza. Detto da lei e dalla sua storia, lo prendo come complimento. Se posso, e se non ha un atteggiamento fascista nei miei confronti... Fa molto piacere che lei la butti in Cacara, come normalmente abituato a fare. No, è lei che mi sta interrompendo. Se non ha un atteggiamento fascista, mentre parlo cerco di concludere, secondo me, e non secondo Tarchi, parlare di democrazia significa anzitutto essere antifascisti. È una precondizione. Come diceva Sandro Pertini, il fascismo non è un'opinione, è un crimine. E finiamola con questo benaltrismo tipico della destra, per cui ogni volta che si parla di antifascismo, c'è qualcuno che deve dire, ma esiste anche l'anticomunismo. Ma cosa c'entra l'anticomunismo? Il mio passato non ha nulla a che vedere in queste posizioni. Tarchi, Tarchi, non siamo dentro la voce delle Fogne. Calma. Se lo fa da solo, Tarchi, Tarchi, posso... Tarchi, stia tranquillo. Tarchi, stia tranquillo. Calma. Tarchi, stia tranquillo. Non siamo negli anni 70, non siamo dentro la redazione della voce delle Fogne. La sua autorevolissima rivista, la sua autorevolissima storia. Dopodiché, se posso terminare, se posso terminare... Della Fogne al singolare, però. Ho sbagliato, la voce della Fogne, le chiedo perdono. Diciamo che non leggevo in maniera complessiva tutti i numeri. Il punto, però, è che quando si parla di questo tema, la reazione di Tarchi è stata la stessa reazione che hanno Salvini e Rameloni. Cioè, loro ti rispondono, sono contro ogni forma di totalitarismo. Lascia stare. Dimmi che sei antifascista. Poi si discute anche del comunismo. Perché non lo possono fare? Perché rispondono con la solita frase, allora, le foibe? Che è questo benaltrismo insopportabile. Perché non se lo possono permettere. Non per motivazioni storiche, illuminate, dotte, come ha detto il professor Cardini, con cui si può discutere, ma perché c'è un calcolo politico. L'ha detto perfino il professor Tarchi. Non lo può fare Rameloni. Se Rameloni dice di essere antifascista, non la vota più metà elettorato o un quarto d'elettorato. È un calcolo politico. E mi permetto anche di dire, se si sta qui a dire che Rameloni è brava, che è scaltra, che è preparata, siamo tutti d'accordo. Se si dice che Atrei è una grande operazione politica, un'OPA nei confronti del centrodestra conservatore, siamo tutti d'accordo. Ma ricordiamoci anche chi è parallelamente Rameloni. Cioè quella che fa quelle uscite quando va da Vox, quella che è leader di un partito che applaude quando viene affossato di DL Zan, quella che va al congresso di Verona bigotto. Cioè è anche quella, quella che parla con Orban, quella che ha una certa idea di famiglia. Non è che improvvisamente adesso è diventata la Thatcher. Allora, Tarchi, le do 10-20 secondi che devo chiudere e poi cancellato. Tarchi, vuole dire la sua? No, io non ho nessuna intenzione di buttarla in rissa, in polemica. Dico semplicemente che ha ragione su questo Scanzi. È evidente. Se parla a un tipo di elettorato che non ha l'idea che ha Scanzi o che hanno altri del fascismo come male assoluto, è ovvio che persegue una sua linea politica. È proibita questa linea politica dalla Costituzione. Le cose che dice Giorgia Meloni sono assolutamente fuori dalla Costituzione. Io non lo credo. Cancellato. Non mi convino. Non ho detto questo. Una piccola cosa però. Non ho detto questo, professor Tarchi, che fosse fuori dalla Costituzione. Non l'ho mai detto. Dico che essere antifascista è dentro la Costituzione. Quando parliamo oggi di fascismo.